è giusto, l'avete presa buona la calcolatrice si si l'abbiamo presa buona, è stata dura, Ceca andava fortissimo io ero più veloce nel punto veloce ma lui era più veloce di me nell'ultimo pezzo nel punto lento quindi era dura, poi però gli si è chiusa davanti e per me è stato più facile più facile fra virgolette perché fare 10-11 giri da solo è stato molto difficile mantenere il ritmo e ho un po' di male alle mani così la testa va bene? no no la testa va bene, l'unica paura è stata dopo la bandiera a scacchi che io ero molto lento, Biaggi mi ha sorpassato molto vicino velocemente lui è solito fare queste stronzate, evidentemente mi tira il culo ad arrivare dietro tutte le domeniche ciao eccolo così, bravo, l'ha detto chiaramente, non si può negare che non l'abbia detto chiaramente